Grazie, grazie mille. Il tempo che stiamo vivendo è quello che è difficile non cominciare dalla tragica attualità che riguarda il Medio Oriente. Tra l'altro non ne abbiamo parlato prima nel dibattito con i giornalisti, ma l'Italia si è astenuta sulla risoluzione per il cessato del fuoco dell'ONU. La Presidente del Consiglio ha detto perché di fatto non c'era nella formulazione una condanna esplicita di Hamas e quindi l'Italia ha scelto l'astensione. Lei è stata molto critica su questo punto dicendo che avremmo dovuto votare la risoluzione. Sì, lo confermo. Penso che abbia sbagliato il governo a non votare una risoluzione che chiede una tregua umanitaria. Bene hanno fatto la Francia, la Spagna, quindi Macron, Sanchez, Antonio Costa del Portogallo a votare a favore. Guarda, io penso questo. La chiamino pausa umanitaria, tregua umanitaria, cessate il fuoco umanitario, basta che fermiamo questa strage di civili a Gaza perché non possiamo più continuare a vedere bombe che cadono su scuole, su ospedali, bombe che colpiscono indiscriminatamente i civili. Oggi, dopo che si sono interrotte, che Israele ha interrotto le comunicazioni per un po', gli operatori umanitari hanno comunicato che sta finendo l'acqua. Questo vuol dire che le persone a Gaza stanno rischiando di morire di sete, mentre sono strette in un fazzoletto di terra da cui non possono uscire e su cui continuano a cadere le bombe. Ecco, noi non possiamo assistere a delle violazioni del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario. Mi sta arrivando adesso una notizia che è dall'ANSA, la Caritas di Gaza dice temiamo nei prossimi giorni inferno ancora peggiore. Nel frattempo il Presidente Biden ha invitato Netanyahu a incrementare in modo massiccio la possibilità di aiuti umanitari. Senta, ma lei che è leader di un partito di sinistra, come si trova in questa situazione? Lei diciamo che dal primo momento ha tenuto il PD fermamente dalla parte di Israele. Noi sappiamo però che nella sinistra da sempre c'è una posizione molto orientata per i diritti della Palestina. La sinistra da sempre ha una posizione pacifista molto forte che sempre è stata reiterata. e anche sull'Ucraina invece il PD ha sposato evidentemente la linea del diritto alla difesa dell'Ucraina. Come si fanno a conciliare un'anima storica con il presente? Anzitutto tenendo sempre il faro che è quello del rispetto da parte di tutti del diritto internazionale. Partiamo da qui. Io vengo da una cultura pacifista. Sono sempre stata molto sensibile alla questione palestinese. Che cosa altra rispetto ad Hamas che con i suoi brutali attacchi terroristici ha dimostrato di essere nemica della causa palestinese e della legittima aspirazione del popolo palestinese a vedersi riconosciuto uno Stato. Noi siamo e continuiamo a essere ancora più oggi per la soluzione a due popoli e due Stati. Ma uno già esiste e ha diritto Israele a esistere in sicurezza. Però l'altro ancora manca perché non è mai stato pienamente riconosciuto. E anche la Palestina, anche i palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato e vivere in pace e in sicurezza. Quindi è vero. Abbiamo condannato nettamente gli attacchi terroristici di Hamas sui civili israeliani. Ma questo non vuol dire anzitutto dimenticare il giudizio storico e politico sempre critico verso le politiche del governo di destra di Netanyahu. Perché non dimentichiamo che il diritto internazionale era violato già prima. Oggi ci troviamo a dover condannare anche le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Ma non sono nate oggi. Oggi forse stanno peggiorando. Ma per il popolo palestinese in questi decenni il diritto internazionale è stato poco più che un miraggio. Allora per fermare Hamas bisogna isolare Hamas nel popolo palestinese e nel mondo arabo. Questo vuol dire che colpire Hamas non può tradursi nel colpire e punire collettivamente tutta la popolazione palestinese. Perché in democrazia c'è un confine netto tra la giustizia e la vendetta e quel confine non va superato mai. Lei... Applausi 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 Applausi